Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato all'Empoli e al cambio di guida tecnica della squadra toscana il secondo cambio di guida tecnica di questa stagione perché già Andrea Zoli era subentrato a Zanetti a inizio stagione e dopo un inizio campionato con dei risultati molto brutti che fu sollevato appunto dall'incarico è arrivato Andrea Zoli che alla prima giornata di questo ginone di ritorno perde la panchina e viene sostituito da Davide Nicola chiaramente oggi le prime pagine tutte le testate online se le è presa Mourinho con l'esonero dalla Roma di Mourinho parlerò anche di quello in un altro video ma perché non dedicare un uguale spazio insomma una uguale attenzione ha un'altra scelta di un'altra proprietà di serie A sicuramente minore a livello mediatico ma che è molto forte cioè è un segnale forte quello che ha dato l'Empoli con questo cambio di guida tecnica è giusto analizzarlo è giusto contestualizzarlo quindi sul mio canale che storicamente da quando l'ho aperto do molto spazio anche alla realtà di cui si parla meno questa secondo me è una cosa di cui dover assolutamente parlare ovviamente queste due zone riprendono il sopravvento sulle varie operazioni di mercato che porterò ma queste due notizie ovviamente vanno trattate e veniamo appunto all'Empoli e l'Empoli che come dicevo prima è il terzo allenatore della stagione ovviamente quando una squadra cambia più volte allenatore all'interno della stessa stagione vuol dire che qualcosa non va Diamine può anche essere allenatore stesso e anche il secondo che provi che possono essere sbagliati però probabilmente c'è qualcosa che non va anche più in fondo più alla radice insomma della storia Zanetti io come dissi nel video insomma del ritorno di Andrea Zoli trovate il mio video sul primo cambio di guida tecnica dell'Empoli e Zanetti secondo me ha meritato l'esonero perché già al termine della stagione scorsa insomma aveva iniziato a scricchiolare e secondo me non avrebbe meritato la riconferma sulla panchina dell'Empoli però la proprietà ha deciso di dargli un'altra chance se l'è giocata malissimo con un inizio di campionato veramente terribile dove magari è stato anche sfortunato in alcune circostanze sicuramente però soprattutto il 7 a 0 a Roma è stato qualcosa di veramente inaccettabile quindi giustamente è stato esonerato è arrivato Andrea Zoli e qui voglio soffermarmi appunto sulla valutazione di Andrea Zoli perché Andrea Zoli viene sollevato dall'incarico perché la classifica dell'Empoli non è idonea l'Empoli in questo momento è in pienissima zona di retrocessione ha perso uno scontro diretto che valeva tantissimo contro il Verona alla prima giornata di ritorno uno scontro diretto che pesa anche nella classifica perché comunque il Verona si è staccato e quindi adesso l'Empoli insieme alla Selenitana sono un pochino più distanti dal gruppone delle squadre che lottano per la salvezza non è ovviamente una cosa irreparabile il campionato è lungo si può tranquillamente recuperare anche perché sono tante le squadre a ridosso insomma dei 17-20 punti però è stata sicuramente una sconfitta dolorosa io non penso o almeno ho sempre avuto quest'idea insomma nel calcio che un allenatore non si può giocare una panchina su una partita cioè io non credo che Andrea Zoli sia stato allontanato per aver perso questa partita col Verona io penso che sia stato allontanato perché evidentemente nelle valutazioni di Corsi e della dirigenza l'impatto di Andrea Zoli nel gruppo squadra non è stato quello desiderato, quello sperato io penso sia più quello perché il risultato di una partita molto spesso è influenzato da degli episodi che sono non dico casuali però sono unici quindi quando tu valuti il rendimento di un allenatore, le potenzialità di un allenatore valuti un percorso Andrea Zoli ora non mi ricordo a che giornata è subentrato a Zanetti ma mi sembra tipo alla sesta, alla quinta, una cosa di questo tipo e Andrea Zoli ha allenato per 15 partite circa l'Empoli e quindi ha fatto un percorso quindi se tu mandi via Andrea Zoli dopo 15 partite non è perché ha sbagliato la quindicesima è perché evidentemente anche nelle 14 prima non ti ha particolarmente convinto e quindi voglio parlare di questa cosa perché secondo me c'è un problema di fondo nell'Empoli che dicevo prima e il problema di fondo è la rosa io anche nel video che feci a fine mercato dove feci il pagellone al calcio mercato estivo per ogni squadra di Serie A l'Empoli lo criticai tanto ora non mi ricordo il voto che gli ho dato ma sicuramente meno di 5 perché avevo visto un mercato fatto un po' a caso cioè un mercato veramente con pochissimo scouting per non dire nessuno e questo non è positivo perché lo scouting dell'Empoli spesso è anche nei settori giovanili delle varie squadre, non è soltanto all'estero ma c'è stato pochissimo da questo punto di vista in generale e è una squadra che aveva tantissime lacune perché comunque era una squadra che aveva problemi a centro campo dove aveva perso calciatori importanti e c'era bisogno di maggior quantità soprattutto a centro campo e soprattutto era senza una punta e si è riempita di mezze punte, tre artisti, sottopunte tutti i acerbi, tutti i mezzi giocatori tutti i calciatori che non sono né carne né pesce era una squadra che non mi convinceva già all'inizio e secondo me in astri di partenza era una stracandidata alla retrocessione quindi non una squadra che avesse il potenziale tecnico per potersi salvare quindi serviva comunque una stagione sopra il proprio livello per poter raggiungere la salvezza secondo me poi se questa stagione overperformante fosse arrivata da parte di qualche singolo in campo del gruppo squadra, dell'allenatore o cosa vi pare oppure del mercato di gennaio che ti porta 4-5 calciatori che ti impattano nel giugno di ritorno questo non lo so però ai nastri di partenza per me Lempoy non aveva assolutamente le carte in regola per salvarsi e quindi la valutazione di questa parentesi di Andrea Zoli deve tenere di conto di ciò Andrea Zoli alla fine conclude il suo percorso con una media punti che è di poco inferiore al punto a partita perché è subentrato a Zanetti che Lempoy va a 0 punti quindi è una media punti non da salvezza però è una media punti che con un paio di accelerate potevi sistemare chiaramente subentrando con una squadra che ha 0 punti dopo 5-6 giornate non basta fare un punto a partita di media devi alzare un pochino il livello perché altrimenti non ci arrivi alla quota salvezza nonostante insomma il campionato ti dia ancora delle speranze di rimonta tangibili perché comunque appunto la salvezza è ancora a breve distanza ma quello che non ha convinto di Andrea Zoli secondo me è il carattere cioè Lempoy ha perso o comunque non ha giocato bene la maggior parte degli scontri diretti quello è stato secondo me il vero problema perché Lempoy 6 dei suoi 12 punti in campionato 14 scusate mi sembra 14 e 14 vuol dire se mi dato un attimo lo controllo aspettate un attimo che sposto qua perché tanto ho la classifica sul cellulare allora e Lempoy 13 punti ok tra 12 c'è lì alla salernitana dei 13 punti che ha fatto Lempoy con Andrea Zoli in panchina 6 quindi la metà praticamente li ha fatti nelle due trasferte incredibili di Napoli e Firenze due prestazioni differenti perché a Napoli è stato praticamente preso a pallonate e si sono allineati i pianeti insomma per portare fuori tre punti da quella partita a Firenze ha fatto una partita di grande cinismo di grande organizzazione e ha strappato 6 punti in queste due partite che fanno poi la classifica perché con due sconfitte in quelle due partite Lempoy sarebbe a 7 punti secondo me questa cosa non è passata inosservata perché quelle due prestazioni che si sono viste a Lempoy e a Firenze non sono state sostanzialmente replicate addirittura qualche punto che Lempoy ha fatto l'ha fatto non dico casualmente ma comunque l'ha fatto soffrendo molto penso ad esempio a Cagliari penso a Genova punti che Lempoy ha portato a casa negli scontri diretti ma in prestazioni dove era più facile perdere che vincere e quindi secondo me sono stati allineati i puntini e è stato ritenuto in idoneo Andrea Azzoli che per me non è il responsabile principale di questo rendimento brutto dell'Empoli perché ribadisco per me la squadra non è all'altezza della categoria assolutamente ma Lempoy ha fatto una scelta forte e qui voglio arrivare alla scelta di Nicola che è una scelta ponderata sul valore che ha Nicola nel prendere le squadre a metà campionato da posizioni di classifica drammatiche e riuscire a dare quello sprint emotivo il più delle volte che permette alle squadre di poter poi fare delle rimonte a volte anche storiche insomma ovviamente è leggendaria la rimonta fatta con il Crotone ma anche quella fatta con la Salernitana tre anni fa non ci scherza quindi si sta comunque parlando di di un allenatore che nel suo curriculum vanta tante rimonte perché ovviamente quelle di Crotone e Salernitana sono quelle più più lampanti però Nicola ha salvato anche il Genoa prendendolo quando Tiago Motta iniziò il suo percorso da allenatore che era molto acerbo Genoa era ultimo in classifica lo prese Tiago Motta e l'ha salvato Nicola ha salvato il Torino che era in caduta libera assoluta quell'anno lì da tifoso Granata insomma è stata una bella storia anche quella comunque ha salvato il Torino da una retrocessione che per quello che era il trend della squadra sembrava scritta e ha fatto bene anche a Udine cioè comunque se poi si va a vedere qual è il suo rendimento da allenatore subentrato ha sempre avuto una media ampiamente superiore al punto a partita un punto è uno un punto è due quelle che a volte anche di più che hanno permesso alle proprie squadre di rimontare e quindi è un allenatore che è maestro in questa circolazione forse è il miglior allenatore che c'è in Italia in questo fondamentale specifico cioè quello di spingere le potenzialità della squadra al massimo tirando fuori questa verve agonistica che permette alle squadre di fare delle rimonte che altrimenti sembrerebbero impossibili poi non è l'allenatore idoneo per iniziare una stagione per aprire un ciclo perché poi ovunque è stato riconfermato poi è iniziato male ed è stato esonerato però nel subentrare a metà stagione per come si può dire far resuscitare una squadra è assolutamente il numero uno cioè su questo proprio non ci sono dubbi ha preso squadre che giocavano anche con moduli differenti e qui voglio arrivare a un Empoli che sono tre anni che gioca con un modulo diverso perché con Dionisi in serie B faceva il 4-3-3 o il 4-2-3-1 comunque lì dipendeva dal terzo centrocampista che a volte giocando a punta insomma il centrocampo diventava un 4-2-3-1 però in serie B l'Empoli giocava così in serie A ha proseguito con questo modulo con la difesa a 4 e comunque il tridente offensivo riproposto anche da Zanetti Andrea Zoli stesso diciamo che in attacco era un pochino più 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 liquido ecco il modulo offensivo però comunque il 4-3 o il 4 in difesa comunque sempre una costante di questa squadra arriva Nicola che invece è assolutamente un un adepto del 3-5-2 o del 3-4-2-1 tutt'al più comunque difesa a 3 gioco sugli esterni cross in area di rigore cioè ha uno stile di gioco completamente differente e chiaramente questo cambio modulo che non so se Nicola poi metterà in pratica perché la grande forza di Nicola non è tanto tattica quanto emotiva cioè è un allenatore che riesce a trasmettere al gruppo squadra un agonismo positivo ovviamente che permette a quelle squadre poi di di azzannare gli avversari negli scontri diretti soprattutto ma è uno le squadre di Nicola spesso hanno strappato anche risultati importanti nei match insomma contro le big e quindi è più un lavoro psicologico quello che fa Nicola piuttosto che tattico che è anche il motivo per cui quando inizia le stagioni e non deve ricaricare un ambiente scarico ma deve impostare una stagione va in difficoltà quindi è un maestro proprio nella circostanza del subentrare a stagione in corso quindi non sono sicuro che l'Empoli passerà al 3-5-2 anche perché qualche calciatore che può fare questo modulo c'è perché Buei può fare l'esterno a destra perché Giasi nasce esterno a sinistra e perché ci sono ci sono mezzali che possono fare quel tipo di lavoro pensa a Malè pensa a Zurkowski c'è Marin che può giocare davanti alla difesa c'è Fazzini che è un'ottima mezzala di dinamica ci sono calciatori che poi Bastoni quando rientrerà dall'infortunio può fare sia l'esterno di centrocampo che la mezzala sinistra quindi hai calciatori che hanno queste caratteristiche davanti un pochino più di dubbi perché se di sottopunte ne hai numerose perché ci puoi mettere Cambiaghi perché ci puoi mettere cancellieri ne hai di soluzioni in quella cosa come centravanti puro manca il centravanti all'Empoli soprattutto se vuoi giocare sugli esterni e impostare tanto il gioco sui cross perché Capote è una lattina di birra giusto per collegarsi alla sua attività extracalcistica quindi io penso penso che il cambio di modulo non sia scontato perché è un è un è una forzatura importante per quella che è la rosa dell'Empoli che da anni è impostata in altro modo perché anche i difensori centrali sono pochi ci sono dei giovani interessanti penso a Guarino che è un ottimo giovane che con la nazionale giovanile ha fatto grandi cose penso a Gogli Cizze che è stato appena comprato c'è qualche giovane diciamo promettente però giocarsi una salvezza con una difesa a 3 schierando dei bimbetti che poi possono essere anche i migliori però può essere rischioso se oltre a questo ci metti che devi inventarti qualcosa davanti che devi che devi stravolgere un pochino l'identità di una squadra che è consolidata da anni quindi non sono sicuro del cambio modulo secondo me Nicola almeno all'inizio proseguirà con il 4-3-3 4-2-3-1 insomma con questo modulo mi sorprenderei di vedere un 3-5-2 a inizio a inizio campionato insomma cioè alla sua prima uscita mi sorprenderebbe vi dico la verità però mi immagino una reazione emotiva già dalla prima partita perché è un allenatore che ci ha abituato a questo e una stagione miracolata capita a tutti giocatori allenatori dirigenti che magari in una sessione di mercato ti chiappano due fenomeni ma soglionoci due della loro carriera cioè a tutti capita la stagione miracolata il mese miracolato insomma la parentesi miracolata di carriera non è il caso di Nicola che sono anni che quando si ritrova in questa circostanza rispetta sempre le aspettative la grande segnale che ha dato l'Empoli perché è qui che voleva arrivare e che mi ha sorpreso è che opinione mia l'Empoli non voleva salvarsi questa stagione e uno può dire ma cosa stai dicendo cioè perché una squadra dovrebbe voler retrocedere perché un pochino l'identità di questa squadra perché comunque rimanere in serie ha dei costi importanti l'Empoli è una società sana è una società che valorizza molto il settore giovanile è una società che non ha con tutto il bene che si può volere ai miei vicini di casa perché comunque Empoli sta a pochi chilometri da dove vivo io e non ha un seguito a livello di tifo particolarmente caldo e quindi è un po' l'identità dell'Empoli quella di essere un'altalena tra la serie B e la serie A dove arriva in serie A facendo ottimi campionati di serie B valorizzando tanti giovani mette in vetrina dei calciatori molto interessanti molto spesso italiani e in serie A monetizza tanto perché sono tanti calciatori venduti dall'Empoli a cifre importanti gli ultimi sono stati Vicario e Parisi ma se si va un pochino più indietro insomma c'è Aslani c'è Ben Nasser c'è Di Lorenzo c'è Caputo che non è giovane però comunque è un calciatore che è arrivato in serie A grazie all'Empoli c'è Saponara c'è Mario Rui sono veramente tanti c'è Viti che è stato magari un po' un bluff però comunque ha monetizzato tanto l'Empoli anche con Viti c'è l'Empoli ha lanciato veramente tanti prospetti e quindi è un po' nella sua natura infatti quei due anni tre massimo di ciclo in serie A dove è valorizzato un gruppo e tutto il resto torni giù rientri nelle spese prendendo il paracadute ti fai uno barra due campionati che poi l'Empoli risale subito cioè di solito quando una squadra le procede non è detto che risalga subito l'Empoli ha questa dote di rimanere poco in serie B però si fa un anno insomma in riprende fiato in serie B con costi molto più sostenibili con pressioni minori con la possibilità di poter di poter valorizzare il proprio settore giovanile lanciando pian piano i suoi calciatori senza metterli diciamo con le luci e i riflettori addosso dove se un giocatore azzecca cinque partite di fila ne parlano tutti come è stato ad esempio Baldanzi l'anno scorso e poi viene affossato magari anche dalle pressioni scompare dai radar in serie B è diversa situazione e torna in serie A con un gruppo già consolidato quindi io mi aspettavo che Lempoli anche per il mercato che aveva fatto avesse già preparato la squadra in serie B dell'anno dopo cioè io avevo avuto questa sensazione e la scelta di mandare via Zanetti secondo me era dovuta al fatto che Lempoli veramente non lottava cioè era una squadra senza spina dorsale con Andrazzoli nonostante delle prestazioni non esaltanti nonostante dei risultati negativi secondo me Lempoli la sua identità ce l'aveva e quindi io pensavo che rimanesse fino a fine stagione e poi se andavi giù pazienza cioè l'avevo vista così sinceramente la scelta di Nicola invece è un ribaltamento di questa mia considerazione perché se una squadra in zona retrocessione a metà campionato prende Nicola evidenzia al mondo la sua volontà di salvarsi e quindi Lempoli con questa scelta ha definito che vuole non vuole andare giù vuole rimanere in serie A che ovviamente può sembrare scontato ovvio ma da Toscano vi posso assicurare che non è così perché per me Lempoli era nel classico anno che andiamo giù e quindi una scelta sicuramente forte che non è stata neanche valorizzata molto dalla stampa dai media insomma nazionali perché ovviamente oggi è stata eclissata dalla situazione di Murigno che si è preso tutte le prime pagine ovviamente quindi oggi parlare di Nicola dell'Empoli invece che di De Rossi alla Roma al posto di Murigno è impossibile un qualsiasi giornalista non può dare priorità a Nicola però è una decisione forte che secondo me deve iniziare a far preoccupare un pochino anche le varie Cagliari Frosinone Sassuolo Udinese e compagnia cantante che Verona stesso insomma che che vedono un Empoli che fa una scelta importante in panchina che manifesta voglia salvarsi una Salernitana che con Sabatini cerca vuole avere un guizzo anche se il mercato salernitana non è particolarmente scoppiettante mi aspettavo molto di più almeno all'inizio poi Sabatini sicuramente nelle prossime due settimane farà tante operazioni io mi aspettavo tutta più Nicola che tornasse a Salerno perché come c'è tornato Sabatini poteva tornarci Nicola invece l'Empoli ha anticipato tutti e quindi per quanto mi riguarda questa è una scelta molto forte che cambia un pochino le carte in tavola nella zona salvezza perché io ribadisco che l'Empoli non ha le carte in regola per salvarsi ma Nicola è un boost è un potenziatore di classifica che in questa circostanza in questo contesto è devastante e non è assolutamente ipotizzabile cioè io veramente se qualcuno delle persone che mi segue che guarda i miei video si aspettava una situazione di questo tipo lo scriva e gli faccio un applauso perché veramente per me è stata una notizia scioccante per cui per me questa è una una svolta nella zona di tracessione che può cambiare la stagione non solo dell'Empoli ma anche delle altre o almeno questo è il mio parere quindi quali sono le mie sensazioni su una potenziale salvezza dell'Empoli se la deve giocare non è che dico che ora con Nicola hai talisman e ti salvi per forza no perché la squadra comunque secondo me è scarsa però io credo che che se la giocherà che recupererà anche perché per recuperare sono 4 punti mi sembra 5 di ristare senza insomma non sono tanti si fa presto e penso che che l'Empoli darà del fiore a torcere poi non so se ce la fa non so se ce la fa tanto dipenderà dalle altre tanto dipenderà da questa flessione importante che sta avendo il Frosinone dipenderà da da uno da uno scatto d'orgoglio del Sassuolo dipenderà da un Udinese che se riesce a trovare qualche soluzione un pochino più continuativa davanti consolidando la propria solidità difensiva dipenderà dal Verona come reagirà a questo mercato da discount dove stanno andando via tutti cioè il Cagliari stesso se riesce ad accelerare ha fatto una grande partita contro il Bologna ma bisogna vedere se riesce a dare continuità cioè bisogna vedere se le altre perché l'Empoli secondo me con Nicola nelle prossime siamo alla 21esima quindi sono 17 partite nelle prossime 17 partite con Nicola 21 22 23 punti li fa secondo me quindi l'Empoli a 35 36 punti ci arriva con Nicola è da vedere se saranno sufficienti questo è un pochino il mio il mio prospetto dell'Empoli per questo girone di ritorno il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa operazione poi ovviamente vi porterò in giornata in serata perché poi io lo sto registrando in pomeriggio ma poi c'ho l'annessione a internet che va a Criceti quindi ci mette un po' a pubblicare video e vi porterò ovviamente anche il video su Murigno che è una notizia bomba assolutamente bomba in tutto proprio nel senso letterale del termine e vi porto le mie considerazioni sulla scelta di cacciare Murigno e di prendere De Rossi cioè sono due scelte una più forte dell'altra quindi è un video interessante anche quello lì nonostante sicuramente ne abbiano già parlato tutti iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi se volete maggiori contenuti potete comunque scrivere nei commenti come vi dico sempre leggo e rispondo sempre a tutti potete scrivermi anche in privato su Instagram o su Telegram potete chiedermi dei video specifici vi dicevo che ho già dei video di calciomercato richiesti che sono Giannetti dell'Udinese mi è stato chiesto Pierozzi alla Salernitana mi è stato chiesto Pierotti a Lecce quindi delle richieste già ce le ho porterò Faraoni a Fiorentina porterò a Terracciano al Milan forse porterò anche Spence al Genoa insomma dei video li farò sicuramente ma se avete delle richieste specifiche magari anche non di calciomercato e di qualsiasi altra cosa chiedetelo pure io cerco sempre di accontentare tutti condividete il video con chi pensate possa apprezzare le mie considerazioni le mie analisi create un dibattito chiaramente civile nei commenti perché è quello che è più costruttivo per tutti noi ci vediamo come sempre ai prossimi video un caro saluto a tutti ciao ciao